Musica Benvenuti in questo nuovo video e siamo ancora su Kufu Panda Allora avevamo finito la missione al 100% e ora iniziamo una nuova missione La leggenda del guerriero dragone ha molti colpi di scena Il viaggio del guerriero lo portò attraverso molte prove e molte terre dove affrontò molti nemici Nonostante si dica che abbia vagato attraverso terre desolate e sulle impronte di altri meno potenti e meno magnifici eroi caduti Il suo coraggio non venne mai meno Così come non vennero meno la sua grandezza o la sua resistenza si dice fosse inarrestabile Una forza distruttiva, inarrestabile ed incredibile maestria nel Kung Fu Ok I segreti delle sabbie Vediamo un po' Nonostante il maestro del Kung Fu fosse accaldato, stanco e completamente perso, niente poteva fermarlo Ah, sono così deluso Ah, ok Fame, fame È la Madonna Po 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 Dove? Che? Alzati, guerriero dragone È ora di affrontare il tuo destino Maestro Ugwe È davvero lei? Certo Perché me lo chiedi? Ecco, beh, sta tipo fluttuando E poi ha della roba fluorescente attorno Sì? E poi c'è... Ehi, dove hai preso quel biscotto? Guerriero dragone, segui il tuo istinto Segui i biscotti Il mistero di questo luogo ti sarà rivelato Ma pensa a te Segui i biscotti, guerriero dragone Biscotti alle mandorle, bene Mi avete provocato e sono tutto vostro Ma pensa a te Sblocca il segreto dei luoghi dell'allenamento di Tai Lung Ok, allora qua devo Pensolo a fare Ok Se ti prendi il segreto di torce Non sono nella strada fino alla pietra di luna Ok Aspetta un attimo Inciampa per salire sulle rampe più corte Ok, devo Allora, proviamo prima di questo Questa qua Ok No, questa è da dove sono arrivato Mi sa No, questa è da dove sono arrivato No, questa è da dove sono arrivato No, questa è da dove sono arrivato Ah, ok Ok Vai, vai, vai Che ora ce la fa No È impossibile Lo seguo le monete Aspetta Quindi da qua Quindi da qua Quindi da qua Che cazzo è la scala 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 Ok Ah, ok Ah, no Mi sa che Ah Aspetta Quindi questa rampa Mi fa andare di là Ok Non è mai che c'è Mi ha messo la scaletta Oh Porca troia Ok Però mi fa andare pure dietro Oh, Cristo Fattuo Oh, po' No Ok Ok Quindi Andarlo là Quindi Col potere della mente Penso che dovrei Volare fino là Ok Aspetta un attimo No Che cazzo Che c'è Ah, ma posso andare anche di qua Quindi Allora Allora Io da qua Penso che Ce la dovrei No Questa qua Mi fa andare dritto Lo proviamo No Ma porco Schifo Vabbè Ah Che palle Si cazzo Di cosi E quando si Bugga Cribbio Non viene più Il nervoso Va Oh Cagli di merda E non sale più Adesso Oh Ok Cazzo Dove scelgo Ok Eh Questa è Ma vaffanculo Cribbio Perché non rotoli Porco Schifo Taglio Porco Dio Bastardo Porco Puttana Taglio Dio Mi fa male Porco Lo schifo Oh Minchia sto panda Di merda Quando Non so che cazzo fare Ma scusa Cioè Io Sto Ah no Non è giusto Cazzo Faccio Non rotola Sto minchia Che cazzo C'è questo qua Adesso ho capito Ok Fammi Ok Dai ce l'abbiamo Dai Ce l'abbiamo Dai Ok Ok Aspetta Ah Mi c'è un gestione Un 2 su 4 Ok Ok Mi c'è un gestione 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 Sì, sì, non ho avuto. Oh! Ok, aspetta un attimo. Ragazzo, vabbè, io ho un jump. Mi sa che... Devo seguire le monete. Penso di poter guadagnare abbastanza velocità con qui. Ok, quindi la onda qua. La onda. Questa, va? Ma ne manca? Quello? Ah, fanculo. Lì devo andare. Perché? Sono ando in confusione. Vabbè, riproviamo. Dai! Ok. Dai! Ok. 3 su 4. Ne manca una. 3 su 4. Guarda, ci sono altre torce laggiù. No. Allora. Da qua devo andare... L'acqua. Vabbè, ho fanculo. Io vado. No! Vaffanculo! Vediamo come cazzo risalvo. Usa la levetta destra per ruotare la visuale o pre... ... ... Vaffanculo! ... ... ... eccoci ora vediamo vai 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 Allora, aspetta un attimo, andiamo in ordine, ok, se l'ho rotto, si, quale cazzo mi manca allora, quindi, questo è, e vaffanculo non ha rotato, oddio, forse ci siamo, sì, è quello giusto, me lo sento, ok, e mo? Ah, questo va, ok. Dove cazzo non darò? Dove cazzo andare? Questo è quello rotto? Sì Porco Dio Allora fatemi capire dove cazzo sono Dove le vedi le torci? Ma porco schifo ho capito Ho comerto il cazzo Ma al culo aspetta E' impossibile comunque Anche se ce la dovrei fare è impossibile Oh Oh Muoviti Cribbio Ma ce la fai a arrampicarti su una cazzo di scaletta? No non ce la fa perchè è handicappato Porco Dio Porco Dio Dio Ok Ok Oh Eh va a favore non ero pronto Vai Ok Ok Questo è quello che ho rotto Si E' quello che ho fatto questo Quindi che cazzo mi Ok ce la dovrei fare Vediamo 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 Ok Mamma mia che culo Proprio 300 anni Ma mi manca sempre uno Oh no Oh cos'è sta roba aiuto Eh C'è un po' dell'osso di merda Aspetta Lo so capito Oh cazzo Ok Ok Questo dovrebbe essere l'ultimo lo spero No Oh Non farei scherzi Che io non ce l'ho addirittura nessuno Oh Cristo Po Po La monenne Oh Cristo Dio Ecco questi stronzi che mi rompono Cazzo Ok Ok l'ultimo è qua Baby Dai Così 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 Vai 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 Ehh Siiii Ok Finalmente il segreto del biscotto alle mandorle sarà svelato Perché sei venuto qui? Ah, sei tu, voglio dire, sei lui, voglio dire Perché sei venuto al mio luogo di allenamento Tuo Perchè? Sono venuto per i biscotti Ehi! Ok Sto bene Sto molto bene Non proprio Bene, non sto bene Distruggi otto lucchetti delle trappole Aspetta! Sottomileggere Non faccio distruggere Ah, ok Forse ho capito Come li distruggo? Eh, se non so come il cazzo distruggerle Ok, ok 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 uno. Ok ho capito uno spot. Due. Grazie amico. Olè. Olè. Eh ho fatto uno sbaglio. allora. Vaffanculo, ho sbagliato. Questo manca? Dai dammi la bomba. Dammi la bomba! Cazzo. Ok, bravo. Uno. No, merda! Oh, ma avete rotto il cazzo di tutti quanti eh? Ma avete rotto le palle. Una bomba voglio. Anzi, fai tre. Mamma mia. Chi si è pizzo? Wow! Ah, alfa al culo. Ah, questo. Ah, ok, ho capito come buttarlo giù questo. Datemi le bombe che le ho spercate. Per favore. Vabbè. Ah, era così sì. Panda la riscossa! Oh! Mastardo! Secondo livello. Wow! Mappe e altra roba strategica. Grande! Non ci credo. Non ci credo. La prisa delle dita Vuxi. Perfezionata dal maestro Vuxi durante la quarta dinastia. Che ci fa qui? È per te, guerriero dragone. È lei maestro Huguay? È ora di affrontare il tuo destino. Quindi... Niente biscotti, vero? Giusto. Ok, raga, abbiamo finito anche questa missione al 100%. Ci vediamo qua la prossima volta. Ciao! Ciao!